Contra questo avversario della ragione si levò un die quasi nell'ora della nonna una forte immaginazione in me che mi parve vedere questa gloriosa Beatrice con quelle vestimenta sanguigne con le quali apparve prima agli occhi miei e parea mi giovane in simile etade in quale io prima la vidi. Allora cominciai a pensare di lei e ricordandomi di lei secondo l'ordine del tempo passato il mio cuore cominciò dolorosamente a pentere dello desiderio a cui civilmente s'avea lasciato possedere alquanti die contro la costanzia della ragione. Ed iscacciato questo cotale malvagio desiderio, sì, si rivolsero tutti i miei pensamenti alla loro gentilissima Beatrice e dico da allora innanzi cominciai a pensare di lei, sì, con tutto lo vergognoso cuore che gli sospiri manifestavano ciò molte volte, però che tutti quasi diceano nel loro uscire quello che nel cuore si ragionava, cioè lo nome di quella gentilissima e come si partio da noi. E molte volte avvenia che tanto dolore avea in sé alcuno pensiero che io dimenticava lui e là dove io era.